Ciao a tutti, mi chiamo Walter Piccolo, sono uno studente del Politecnico di Milano Onestamente amo il cinema da quando ne ho memoria Penso che la cosa più bella di quest'arte sia quella di prendere la quotidianità e renderla epica Che poi è quello che stiamo cercando di fare con l'azienda che ci è stata assegnata per il concorso, che è Isopren A dire la verità, è lì che sto andando in questo momento Per portargli questo, il soggetto del nostro cortometraggio Anzi, potrei leggervi qualcosa del cortometraggio Praticamente inizia con